Smart City è una provocazione per noi politici, si tratta di immaginare come un territorio che si organizza per reti, che si organizza per conoscenze, che si organizza per connessione oggi possa essere trasformato nell'idea di un insieme o di una previsione istituzionale cioè come riorganizzare il sistema della collaborazione tra enti locali e riformare il sistema complessivo delle istituzioni regionali. Diciamo che i comuni sono fondamentali per i cittadini, è vero, sono gli enti locali che danno risposte dirette alla comunità, alle imprese, al cittadino utente, ma lo danno se sono e se riescono ad essere smart, cioè se riescono ad essere un insieme in rete collegato attraverso il quale lo scambio delle informazioni, delle competenze, delle qualità e delle proposte risponde alle esigenze complessive. In questo caso non servirà trasferire al centro, alla regione, le competenze ma sarà proprio la possibilità di organizzarle per sistemi territoriali.